Le note del silenzio risuonano per la ventiduesima volta davanti al cippo che ricorda il sacrificio del vicebrigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile, medaglie d'oro al valor civile, morti nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2000 sulla complanare della statale 379 nei pressi del santuario di Iadico. Quella notte i due finanzieri insieme ai colleghi Edoardo Roscica e Sandro Marras a bordo di una Fiat Punto delle Fiamme Gialle furono investiti da un fuoristrada blindato carico di sigarette con a bordo due contrabbandieri. De Falco e Sottile morirono tra le lamiere dell'auto, gli altri due rimasero gravemente feriti. La reazione dello Stato fu immediata, l'operazione primavera scattata pochi giorni dopo su ordine del Ministro dell'Interno Enzo Bianco mise di fatto fine al contrabbando di sigarette. Ecco perché questo sacrificio ogni anno viene ricordato con grande commozione non solo dalla Guardia di Finanza ma da tutti i rappresentanti istituzionali della provincia di Brindisi. È un messaggio importantissimo, noi ricordiamo i nostri eroi a 22 anni da quell'episodio in cui questi ragazzi hanno speso la propria vita quindi con il sacrificio per la salvaguardia di quelli che sono gli interessi dello Stato per i quali noi arruolandoci abbiamo prestato giuramento. È chiaro che questo momento per noi è un momento profondo, intenso, forte che ogni volta vogliamo ricordare annualmente proprio per esaltare il loro sacrificio. Al termine della cerimonia nel vicino santuario di Iaddico l'arcivescovo Domenico Caliandro ha tenuto la cerimonia religiosa che ricorda il sacrificio di Sottile De Falco e di tutti quei rappresentanti delle forze dell'ordine caduti negli anni della lotta al contrabbando di sigarette.